Questo film è veramente delizioso, una vera e propria falsa satirica che prende in giro ma con leggerezza e senza moralismi la politica di oggi, però non solo un partito, non solo due partiti, non solo tre partiti, ma un po' tutti, forse vedendolo rifletteranno un attimo su tutto. E poi sto poro leghista di Civitavecchia, puro, partecipa ai forum, non so che parte a tutti, ai giuramenti di Pontilla, essendo di Civitavecchia, c'è un altro problemino poi, anzi voi l'avete scoperto nel film, e perciò a un certo punto le sue ruspe, i suoi piccoli, le sue cose cadono, cadono con questa sua depaianza, insomma, non viese altro. E vabbè, e niente, infatti vado in seduta psicanalitica dal presidente del consiglio, essendo un multitasking fate tutto, persino uno psicanalista.